Alberto Guerini, Antonio Romeo per commentarvi questa partita importantissima tra la prima della classe che la rugby FEMICZ rugby Rovigo Delta appunto è il Cammi Calvisano ciao Antonio ciao Alberto, buongiorno a tutti sempre un piacere stare con voi allora, grande giornata di sole pubblico delle occasioni migliori allora vediamo il quindici il quindici Bresciano che schiera Aimona Estremo, poi Canavosio, Vilk, Castello e Visentin il reparto dei tre quarti la mediana costituita da Paul Griffin e Marcello Violi vediamo facciamo un po' di silenzio e poi olè 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 piede caldo di Stefan ultimo allenamento un problemino muscolare quindi Rovigo non può disporre al suo metaman un malinteso in rimessa laterale e ci mette una pezza Jeff Montariol era forse un lancio da fare su De Marchi che era uno dei tre prendi e vai Rovigo sta cercando di riproporre l'azione sull'asse verticale alla caccia magari anche di un penalty ricordiamo il punteggio di 3 a 0 per Rovigo Frati a largo buono questo abbrivio pesta sui piedi Van Niekerk con una sponda di Matteo Ferro per Frati che butta dentro Van Niekerk che fa strada ora entriamo nei 22 avversari ancora asse verticale quindi per i rodigini vediamo Lucianone cosa si inventa niente prende una cartella una cartella tongana direi è arrivato in tuffo con le porte aperte lo ha travolto a lei Steffi Basson prova il drop e lo trova la tribuna Quaglio ci dà sempre i responsi drive ottima spinta di Belardo che prende il pallone palla fuori Stein braccato dai guardiani rosso-blu Mahoni e Ferro costringono in Calvisano le traccelle di 5 metri e poi arriva però il penalty per Calvisano un ingresso laterale dice l'abito Liperini all'inizio uno dei temi della partita potrebbero essere il confronto tra i calciatori per cui questi calci di posizione qua vanno evitati il più possibile ed ecco qua appunto Aimona trasforma tre punti per Calvisano ed è stata un'ottima scelta secondo me per come era la situazione di gioco calcio di rimbalzo di Aimona arriva De Marchi sul pallone a Chiamar sostegno offensivo del Rovigo e arriva un bel calcio di punizione per il rosso-blu sì daudio scarammaticamente ti dico che non so se questa sarà la finale del campionato lo scopriamo alla fine niente da fare per Basson 50% per lui di realizzazione al piede dai calci di punizione molto bravi a reagire adesso vediamo che Calvisano in spinta riesce anche ad avanzare con una certa consistenza e a guadagnare un penalty questo ritorno di lettura da parte del Calvisano quindi il problema che ci stanno creando sia in rimessa laterale che in mischia ordinata eccolo qua 6 pari dai Rovigo andiamo a giocare nella metà campo avversaria perché se no Cavalieri sul primo blocco è ancora davanti è ancora dietro via e Belardo prende palla una buona combinazione alla mola avanzante del Calvisano che spinge spinge avanza inesorabilmente Griffin schierato dalla a 10 con Stain sulla schiena del primo centro pronto per giocare eventualmente una penetrazione e c'è anche un penalty per Calvisano Viole a part apertura attenta al drop Griffin fatto bene perché c'era un calcio di punizione Griffin da grandissimo volpone del rugby ha giocato delle zebre in qualità di permit player sì sì questo è durante così come Stain quindi sono giocatori che sono nel giro del rugby che conta in Italia sono giocatori sono giocatori ai Mona anche gli al piede alta e manda questo Stain ha una una leggerezza di corsa eccolo qua adesso splendida azione del Calvisano signori miei perché da questo appenander c'era solo Stain nella difesa del Rovigo e Calvisano attacca ora sull'auto destro nell'area dei 22 i Bresciani vincono la racca palla fuori Stain ancora usato come Ariete forse con il gomito un po' alto comunque il sudafricano serve un altro pallone per l'attacco del Calvisano con una tripla superiorità numerica a sinistra meno male che c'è la difesa del Rovigo che sta rallentando un po' il pallone e Calvisano anche in maniera come dire con un gioco d'esperienza trattiene Ross McCann come giocatore che non rotola prima di un solo giocatore del Calvisano e così siamo a più 6 per il Calvisano dopo soli 6 minuti di gioco nella metà campo del Rovigo introduce Violi vediamo come reagirà questa mischia con meno peso per il Rovigo Calvisano avanza e con questa palla in maniera nettissima e poi guadagna un penalty per riportare la partita sui propri binari vediamo l'esito di questo calcio di punizione la gittata c'è la mira anche e quindi Aimona porta in vantaggio il Calvisano per 15 a 6 9 punti di vantaggio Violi per Aimona calcio nel lato chiuso del campo recupera la palla Ragusi contraattacca il trequarti alla Rodigino con un calcio svirgolato qualche giocatore da Rovigo fuori gioco recupera la palla è un giallo questo è una possibilità di rompere il gioco Aimona per il più 12 e mi sembra che ci sia tutto e voilà accidenti che percentuale signori miei Rovigo di nuovo con il pallone nell'area di 22 Calabrese Buggiani Ormai siamo alla 426esima fase per il Rovigo vediamo se a largo con Menon Basson adesso va Nicker che il Rovigo riesce a trovare finalmente la via della meta niente da fare la partita finisce qui probabilmente con questo passaggio in avanti involontario di Giovanni Nicker Calvisano espugna lo stadio Battaglini a termine di una partita comunque equilibrata ma